La sfida contro il Potenza si avvicina e in casa Taranto si vagliano diverse soluzioni per affrontarla al meglio. La terza, in vista del match di sabato, avrà a disposizione quasi tutti gli effettivi, dei quali si spera possa far parte anche ben assai, nelle ultime settimane alle prese con un problema alla caviglia. L'ex Pontedera però è stato sostituito egregiamente dal giovane Antonio Granata, che nei derby contro Andrea Foggia ha dimostrato totale affidabilità. Un'ulteriore opzione quindi per la terza, le cui scelte si sono rivelate azzeccate. Se Granata è la sorpresa, la certezza è invece rappresentata da Andrea Saraniti. La punta palermitana è andata a segno due volte in quattro giorni, seppur in entrambe le circostanze su calcio di rigore. Il succo del discorso però è un altro, il calciatore in quel di Taranto sta riscattando la poco esaltante passata stagione, tant'è che oltre alle reti già siglate, quattro in totale, è un punto di riferimento importante per lo staff rosso-blu, in quanto capace di garantire quantità e qualità alla manovra. Nel pomeriggio intanto la squadra sosterrà un amichevole con l'Under 17, un'occasione da non sottovalutare considerando che tutto ciò che verrà approvato sul fronte tecnico-tattico potrebbe essere un indizio in merito a quanto avverrà poi sabato contro il Potenza.